In quel momento è abbastanza bene, vedo che la gente viene volentieri, è stato un periodo abbastanza difficile, però vedo che in questo momento la gente sta comprando. Sono clienti nuovi, sono clienti abituali, vengono con le idee già chiare, precise? Sì, vengono già con le idee chiare, molto probabilmente le hanno già viste in questi giorni e sono venuti direttamente oggi. E quali sono le prospettive, pensi che aumenteranno? Sì, credo che questo sarà un mese che la gente comunque vada e spenderà perché abbiamo dei prezzi molto buoni, quindi credo proprio di sì. Sta guardando cosa comprerà per le prossime ore? No. Non approfitterà dei salvi? No. Assolutamente no? Assolutamente no. Come mai? Perché è un momento particolare e per cui bisogna fare veramente economia. Hai merce in salvi? Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì? Sì. Sì, guardiamo le cose per i saldi, non siamo nemmeno grandi amanti, c'è un momento che fondamentalmente non ci riapperebbe fare questa figura qui, però sì. Avete già in mente cosa comprare? Avete stabilito un budget? No, no, non ho stabilito niente e me la butto lì, però l'ho comprato due scarpe. Sono iniziati i saldi, ha già comprato qualcosa? No, ho comprato un paio di scarpe perché avevo finite praticamente. Ne approfitterà di questi saldi? Sì, sempre, non compro fuori dai saldi. Avete approfittato dei saldi? No, ancora no. Ne approfitterete? Poca roba, forse qualcosa, sì. Ma non sono per comprare a tutti i costi, nel senso se mi serve qualcosa, bene, magari aspetto i saldi, se no... Non approfitterà quindi dei... No, no, non ha pensato... Mi occorreva l'ho preso prima. State facendo i conti dei saldi? Sì, stiamo controllando i prezzi dei saldi. Avevate già visto prima che iniziassero i saldi, ma... Sì, sì, i prezzi sono attinenti, diciamo, allo sconto, cioè sono stati scontati effettivamente su quello che era all'inizio. Quindi è stato un affare? Sì, per noi sì. Senta signora, rispetto all'anno scorso il budget per i saldi è maggiore, minore? Per me è minore. Quindi la crisi si fa sentire... Più che altro è questa attesa che ci dà fastidio, questa non sapere mai dove si arriva, alle spese. Saldi oculati. Rispetto all'anno scorso, spendere di più, spendere di meno per i saldi? Forse un po' meno. Quindi, diciamo, i tempi che corrono si fanno sentire anche... Sì, bisogna stare attenti, quindi stiamo attenti.